Dottoressa Iole Antinolfi, vicepresidente della Fondazione Potito, l'imminenza delle feste, l'inizio appunto delle festività natalizie e dell'anno nuovo sono l'occasione giusta per presentare il calendario della Fondazione Potito giunto alla decima edizione. Sì, infatti quest'anno il titolo del nostro calendario è Molise Molise, infatti dopo l'orgoglio europeo, l'orgoglio italiano è arrivato adesso il turno dell'orgoglio molisano. Il calendario di quest'anno attraverso immagini, ricostruzioni tridimensionali di scansioni TAC 640 slice di oggetti della tradizione molisana ha proprio lo scopo di mostrare attraverso poesie, fotografie, aneddoti, leggende, canzoni, tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande una terra così piccola come il Molise. Possiamo leggere lo spirito guida che anima questa decima edizione del calendario? Il Molise è un sito archeologico che può competere con Pompei, possiede un teatro trosannita che ha più fascino di quello di Taormina e sede di un'importante università. Il Molise è terra rurale, impervia, dolce ed orgogliosa. Il Molise è dei tramonti che restano nel cuore. Il Molise ha dato i Natali a personalità illustri nel panorama internazionale, scrittori, giornalisti, attori, poeti, scienziati, musicisti, tenori, scultori, pittori. I suoi paesini sono dei salotti armonici, ricchi di storie vere ed inventate, con palazzi nobiliari, cattedrali e castelli, puliti, ordinati, diversi l'uno dall'altro. Una regione dalla quale si ha voglia di scappare, ma quando accade non si riesce a non star male. Un molisano costretto a lasciare la sua terra nonostante tutto resterà sempre un emigrante. In conclusione mi sento di affermare con convinzione e con oggettivo orgoglio che il Molise esiste e ne ho le prove.